Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di mobile fanpage, sono Dario Caliendo e oggi parleremo della Fitband per eccellenza. Perché la Fitband per eccellenza? Perché è praticamente il primo modello che è stato introdotto nel mercato che ha praticamente aperto un nuovo mercato fino ad allora praticamente inesistente. Ovviamente parliamo dell'app di Jobon, Jobon è la stessa azienda che per esempio produce il Jambox quindi è famosa anche in diversi campi e come potete vedere qui sul tavolo ne abbiamo due. Perché? Quello nero è quello standard, diciamo quello attualmente in vendita in Italia e non ha assolutamente il bluetooth integrato, si connette al telefono o allo smartphone tramite il plug delle cuffie. Quello arancione invece ragazzi è l'app 24 ed è questo quello di cui vorrei parlarvi oggi. È il nuovo modello di bracciale prodotto dall'azienda, in Italia non è ancora disponibile. La differenza rispetto all'app normale, diciamo così, come potete vedere a livello di design è praticamente nulla, non cambia assolutamente niente. Design che, devo dirvi la verità, a me non piace tantissimo perché lo reputo troppo ingombrante, soprattutto nella parte inferiore. È un dispositivo con il quale bisogna anche dormirci e in alcuni casi può risultare scomodo, ad esempio quando ci si mette la giacca, quando ci si mette una camicia. Il materiale gommoso tende molto ad attaccarsi al tessuto e quindi lo rende un po' scomodo come feeling d'utilizzo. Detto questo, l'app 24 in cosa si differenzia dall'app normale? Vi anticipo che questa qui che vedete è addirittura la prima versione dell'app che è stata venduta, quella di due anni fa, che poi è stata ritirata dal mercato perché alcuni modelli avevano problemi di batteria e di stabilità. Il mio ha sempre funzionato benissimo. La differenza con la nuova versione è praticamente una, fondamentalmente, la presenza del Bluetooth. Come potete vedere anche in questo caso, anche nell'app 24, c'è il plug, il plug delle cuffie, però a differenza di quello che troviamo nell'app normale, la dimensione è diversa. Perché la dimensione è diversa? Perché non è più necessario utilizzare questo plug per sincronizzare il dispositivo. L'app 24 utilizza la connessione Bluetooth integrata per connettersi in tempo reale e con intervalli costanti al dispositivo. Quindi voi ogni volta che aprirete l'app dell'app, che dopo vi farò vedere, troverete già tutti i vostri dati. Non ci sono differenze sostanziali. Ovviamente nell'app 24, avendo il Bluetooth integrato che si connette sempre col dispositivo, che esso sia un tablet o uno smartphone, è stata aumentata un po' la batteria per rendere l'autonomia un po' più decente. Vero è che utilizza il Bluetooth 4.0, che ha un bassissimo consumo energetico, ma che attualmente dà dei problemi a livello di software, anzi a livello di compatibilità di software. E di questo ne parliamo dopo perché è un aspetto molto molto importante. Il controllo dell'app avviene tramite questo pulsante qui. Premendolo una volta vi dirà lo stato del dispositivo. Premendolo un po' più a lungo vi dirà che passa in modalità notti, quindi inizierà l'analisi del sonno. Analisi del sonno che ovviamente avviene tramite l'applicazione. Tramite l'applicazione si potranno gestire tutti gli elementi analizzati dal bracciale, che ovviamente ha un accelerometro ed un pedometro, e anche un giroscopio con i quali praticamente si rende conto del vostro stile di vita. Per mostrarvi tutte le funzionalità dell'app ovviamente dovremo utilizzare l'applicazione. Lo utilizziamo su un iPad perché, e questa è una grandissima pecca dell'app 24, per Android non esiste ancora l'applicazione in grado di gestire il bracciale, quindi chiunque abbia un dispositivo Android attualmente e voglia acquistare un'app 24, anche se ne effettivamente è ancora disponibile in Italia, ma immagino che negli Stati Uniti dove è attualmente in vendita, parecchie persone abbiano uno smartphone Android, non lo può utilizzare perché funziona purtroppo solo con la nuova versione per iOS. Gli sviluppatori e i produttori del bracciale hanno detto che a breve arriverà anche la versione per Android, però personalmente lo ritengo una cosa davvero stupidissima mettere in commercio un bracciale, quando poi gran parte degli utenti, perché gran parte delle persone hanno un Android, non lo possono utilizzare. Vabbè, detto questo, vedete qui in alto una barra che sta andando avanti nella progressione, vuol dire che il bracciale è in fase di sincronizzazione con il dispositivo. Il dispositivo ovviamente utilizza l'ultima versione dell'applicazione, è diventata proprio un social network, come potete notare, c'è la squadra, che è praticamente la lista di amici da visualizzare in timeline nell'applicazione, nella finestra principale dell'applicazione, che si raggiunge ovviamente andando in home, e come potete vedere io ho la possibilità di vedere tutta l'attività fisica delle persone che ho tra gli amici. Un'altra importante funzionalità del dispositivo è quella degli obiettivi, grazie ai quali ragazzi voi potete impostarvi dei traguardi, diciamo così, serve proprio per dare uno stimolo a chi utilizza il bracciale. La modalità trend che trovate sempre nel menu sulla sinistra dell'applicazione, vi darà la possibilità di tenere sotto controllo il vostro andamento in base ai giorni, ai mesi e alle settimane. Cosa vuol dire? Vuol dire che avrete un quadro completo della vostra attività fisica e del vostro sonno in base ad un determinato periodo di tempo. Anche la modalità Lifeline è davvero molto interessante, si attiva sempre tramite il menu sulla sinistra e vi darà la possibilità di avere un grafico temporale di tutta la vostra attività. Ed è anche questo un modo per spronare chi utilizza il bracciale a ottimizzare il proprio stile di vita. Insomma ragazzi, le funzionalità dell'app 24 sono molto simili a quelle della prima versione, perché il tutto dipende dall'applicazione che lo gestisce. Una novità davvero molto importante che è stata resa possibile tramite l'integrazione del Bluetooth però è la compatibilità con applicazioni di terze parti che con la connessione diretta al dispositivo in tempo reale diventa molto molto più potente. Ad esempio, vi faccio vedere. Nella galleria delle applicazioni, sempre tramite l'applicazione del bracciale, si possono scaricare diverse applicazioni compatibili con l'app. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi per esempio installate IFTTT che è praticamente un'applicazione che eseguirà determinate operazioni se si verifica o meno una determinata condizione, è davvero ottima. Potrete per esempio, che ne so, accendere le luci se avete delle luci Q quando l'app vi sveglia oppure quando andate in modalità sonno con l'app potrete spendere le luci e così via. Potrete automatizzare anche per esempio la gestione della casa tramite il bracciale. Ovviamente è compatibile con RunKeeper. Cosa vuol dire? Vuol dire che tramite il pedometro incluso nel braccialetto voi potrete in tempo reale trasmettere al RunKeeper il vostro andamento. Insomma, è una potenzialità davvero molto interessante che apre praticamente diverse opzioni, diverse cose possibili tramite il bracciale e che lo rende molto molto più funzionale. Come potete vedere, le diverse modalità disponibili nel bracciale sono gestibili tramite il menu a comparsa sulla destra dell'applicazione. Si può utilizzare la modalità sonno nella quale praticamente il bracciale analizzerà il vostro sonno. Si può ad esempio utilizzare la modalità pisolino ottimale grazie alla quale se per esempio fate una pennichella del pomeriggio lui vi sveglierà in base al vostro sonno, cioè nel momento migliore. Ed è una funzione integrata anche nella modalità sveglia. La modalità sveglia è davvero molto interessante perché se voi per esempio dite voglio svegliarmi alle 8 il bracciale tramite l'analisi del sonno riuscirà a capire il momento migliore per svegliarvi ovviamente non più tardi delle 8. Sceglierai in un breve intervallo di tempo quando è meglio per voi svegliarvi. Insomma ragazzi questo è l'App 24. In effetti si tratta di una categoria di dispositivi che non necessariamente è indispensabile insomma la gente può anche farne a meno però utilizzandola si riesce sicuramente a migliorare il proprio stile di vita. L'App 24 è indubbiamente uno dei migliori fit disponibili nel mercato. La batteria ha un'autonomia di circa 4 giorni utilizzandolo completamente si ricarica ovviamente tramite l'adattatore collegandolo all'USB tramite il plug delle cuffie integrato nel bracciale. Detto questo al CES 2014 di Las Vegas le alternative che hanno presentato sono veramente tante ma io ritengo ancora l'App 24 uno dei migliori attualmente disponibili. Trovo assolutamente inaccettabile però il fatto che abbiano messo in vendita il bracciale senza la compatibilità Android. È assurdo ignorare ancora una volta gli utenti Android che sono numericamente di più rispetto a quelli di iOS. In effetti è un problema che è relativo alla gestione del Bluetooth perché la gestione del Bluetooth 4.0 Lm è stata introdotta in Android solo nella versione 4.3 e attualmente i dispositivi con Android 4.3 in poi sono ancora pochi. Ovviamente piano piano le aziende le stanno cominciando ad aggiornare però avrebbero comunque dovuto rendere possibile l'utilizzo del bracciale anche ai poveri, tra virgolette, utenti Android che a quanto pare non lo possono ancora utilizzare in attesa dell'aggiornamento anche sul Play Store. Io sono Dario Caliendo ragazzi vi mando un abbraccio e se avete domande mi raccomando scrivetecele su Facebook. Ciao! Ciao!